Innanzitutto Antonio ha subito un'ingiustizia e noi eravamo tutti lì e sappiamo come sono andate le cose. Sono i giornalisti e credo che è molto amareggiato in questo momento proprio per questa giornata di squalifica che gli è stata attribuita. E credo che Antonio, vivendolo da due anni, non si è mai comportato male verso l'arbitro e verso il quarto uomo. Ripeto, ha subito un'ingiustizia e mi auguro in futuro che non accada più. Impeto, Antonio si è comportato sempre rispettando le regole. E' chiaro che poi se qualcuno vuole vedere qualcos'altro, ne prendiamo atto e andiamo avanti. Ma il nostro atteggiamento, il nostro spirito è quello di fare il massimo e di vincere. Quindi non ci preoccupiamo assolutamente di niente. Ma noi abbiamo affrontato e affronteremo il Genomo come abbiamo affrontato tutte le squadre contro cui abbiamo giocato, insomma. Con quella determinazione e quella voglia in più di fare risultato. Beh, mi ha provato sia Vidal che Marrone. Ora, all'allenamento di questa mattina, Antonio prenderà la decisione. Penso che in questo momento di necessità, di difficoltà che abbiamo non andremo a modificare anche perché i difensori sono contati e quindi andremo avanti con questa situazione tattica. Io credo che gli attaccanti che Antonio fa scendere in campo crede molto che la coppia di attaccanti o gli attaccanti che di solito giocano sono quelli che sono chiamati in causa per vincere quella partita. Non c'è una gerarchia in questo.